Bella raga, benvenuti a SnowRunner, Marco Drums Games, un piccolo video con tutte le cose strafiche di SnowRunner, divertenti e anche no, mega, mega, recuperi! Ciao ragazzi, buon video! Ok ragazzi, benvenuti nel video di tutte le cose incredibili che possono succedere su SnowRunner, è un video dove ci sarà solo queste cose qua, ragazzi! Allora, vediamo un attimo, mi sono ribaltato, mi sono ribaltato e allora ho deciso di sribaltarmi e adesso mettiamo il container sul camion, il camion, allora, ok, si posizioniamo, mettiamo il 4WD, cambiamo il camion, Ok, modalità gru, sacca, alta, va passato, vai, vai, allora, se la fa, allora, oh, 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 muoviamo il sangue, è tutto molto legno, eh? Ok, aggiungiamolo Ok ragazzi, esso, ma che là, abbassavo, ok, bella ragazzi, è tutto fatta, tetà tetà dotà, no, no, no,zetà, justi una rho, bella! questa ce la siamo giocata bene cambiamo il camion ed ecco fatto ed ecco a voi il camion caricato ciao al prossimo video bella raga ecco qui il camionciozzo che rifornisce gli altri camion ciocci allora andiamo a rifornire il camionciozzo di 3 litri raga 3 litri di sistema facciamo pagare 2 euro 80 litri servizio e distributore in strada in strada bella raga eccolo qua eccolo qua guarda che roba guarda che roba che bel camionciozzo raga e se avete bisogno di una riparazione arriva marco drums con il camion service ragazzi c'è dentro di tutto una piccola riparazione in loco marco ha fatto gran chiara che bello nel camionosso camionosso con il mega servizio funziona bella ragazza la bella raga un altro mega mega allora facciamo un mega recupero il carretto con la benza è proprio scogliere tutte guarda che roba guardate qui che roba che recupero mega recupero andiamo andiamo recuperiamo andiamo tira tutto lui guarda che roba guarda che roba raga questo è un treno va bene ragazzi io vi aspetto con altre clip seguite sempre il canale di marco drums games altre clip un altro mega recupero il zippone col carretto un po' del diesel la benza è rimasto fermo andiamo col camion service a recuperare adesso vediamo un attimo l'acqua che ne si comporta di me ci vediamo in un altro video per l'agito il livello dell'acqua è molto pericoloso col carretto attaccato allora abbiamo attaccato il belicello diventiamo un po' di spazio incredibile incredibile parcheggiamo e ci vediamo alla prossima finissima snow runner ciao beh 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 recupero non tanto è andato bene ragazzi e ora come li recupero tutte e due no non ci posso credere raga non ci posso credere recupero del recupero bella lì seguita marco drums games ok ci riproviamo allora raga grande poi l'aglicello ancora l'aglicello ancora stavo rivoltando l'altra volta senza rivoltarci ce l'abbiamo fatta salvataggio complete effettuato grande drums e per non farci mancare nulla un bel recupero auto marco drums recupera le jeep in pangazzate dentro la pangazza eccolo qui grande drum grande drum sei là boom ho 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 fatto il frontale bella continuiamo sempre a rimorchiare i nostri camioncini dispersi questo era disperso in una palludazza e andiamo a portarlo a far riparare dal meccanico bella raga bella raga a quello cartello guarda qui sempre 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 recuperi pazzeschi e questo mega treno dove lo mettiamo guardate ragazzi un mega trenozzo con la benza sta bello vicino eh un mega trenozzo camion benzina servizio di messa a punto col primo camion e l'ultimo se me lo tiro a dietro che è scassato bella raga bella raga un bel treno di roba boom che gli è andato bella raga e snow runner un altro bel rimorchiazzo messo nella fangazza eh ditemi voi perché hanno messo un rimorchio lì adesso vediamo se riusciamo a tirarlo fuori perché non c'è neanche un albero qui è un po' dura è un po' dura è un po' dura se non riusciamo a tirarlo fuori facciamo una cosa bellissima che facciamo così facciamo il rimorchietto andiamo un po' avanti ci stiamo andiamo un po' avanti tiriamo, 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 vai avanti, nulla davanti. È bello impastato, è bello impastato nella pangazza. Con la potenza, la pangazza è finita dall'ortore, ma in pioda. Adesso questo bel rimorchiazzo, lo portiamo, dal padrone. Adesso dobbiamo andare anche qui di là. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, e noi ce lo passiamo su tutto, piano 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 piano. Piano piano, lo portiamo sotto il belicello, mentre andiamo su, tiriamo anche sotto il belicello, ma è troppo pesa, e non ce la fanno. Abbiamo fatto fuori 18 litri a minuto ragazzi. Abbiamo già fatto fuori una vecchina di lì, spero che questo agisce. ok. Ok, a manetta raga. A manetta, siamo arrivati in strada, adesso lo attacchiamo. a canno, un belicello. Ok. Ok. sta, il bel rimorchio, e ce l'abbiamo fatta, abbiamo tirato fuori il rimorchiazzo dalla fangazza. Ciao raga. Beh, 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 amici miei, io vorrei proprio capire chi mi ha ribaltato il camioncino della Benza in questo modo. Adesso andiamo a recuperarlo dai. Vai. Dai. Operazione recupero drums. aggancio a velicello. Ok. Vai. No, 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 no. Allora. No. Non ha capito nulla questo. Ma, sul camion, forse l'unico, l'unico è questo. Vediamo un attimo. Eh, forse è questo. Ok. Ah, ah. Ok. 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 Il recupero effettuato. effettuato. Perciò che ricerlo. Ok. Sfidiamolo un po'. Sfidiamolo un po'. Sfidiamolo un po'. Ok. Ok. La parte di fianco, eh. E adesso ce li portiamo dietro tutti e due. Bella raga. Al prossimo recupero. Beh, che dire Marco Drums Games con questo trenino di due camion. Il mio camion con la benza. Camion di servizio. Agganciato a velicello. Camion con benza. Rimocchio con benza. Dopo di questa. Credo che le abbiamo viste tutte. Ragazzi. Questo qua è un trenino. Incredibile. Che è fatto. Con. SnowRunner. Il grandissimo Marco Drums Games. Se vi faccio vedere un pezzettino. Prendiamo avanti. E tutti portando in sotto. Ce l'ha fatto. Ecco qua. Portiamo. Due camion a destinazione. Con due rimotti. Bella lì ragazzi. Allora. Io vi aspetto. Su il mio canale YouTube. Iscrivetevi. Commentate. E mettete mi piace ai video. Ci sono un sacco di video da vedere. Link. Sotto in descrizione. Cliccate tranquillamente. Che vi apre una pagina. Con Facebook. Twitter. Instagram. TikTok. E Discord. E chiaramente. Twitch. Che lascio in descrizione. Il link. Dove potete. Tranquillamente. Iscrivervi. Al mio. Canale. Twitch. Amici miei. Grazie. Della visione del video. E spero che vi piaccia. Che porto. SnowRunner. Che è un gioco bellissimo. Di camion. Sul mio canale. Con tantissimi altri giochi. Vi aspetto. Al prossimo video. Così. Fatto così. Un po' con tutti gli ispezioni. Delle scene. Più belle di SnowRunner. E anche le live. Sempre su SnowRunner. E i video montati. Eh. Di SnowRunner. MudRunner. E tutti gli altri giochi. Che porto. Sul canale. Ciao a tutti ragazzi. Alla prossima. Beh. 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 Come dire. Una bella carovana di camion. Che cosa dite raga? Beh. 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 Grazie a tutti.